Radiofonica in via della Madonna insieme a Di Minis. Ciao ragazzi. Ciao. Innanzitutto come state? Bene, dopo un viaggio l'Odissea ce l'abbiamo fatta. Tutto bene. Siete venuti da? Da Milano. Ok, quindi drittone. Avete fatto già qualche data nei giorni passati? Abbiamo iniziato appena dopo l'uscita del disco, il disco nuovo Lettere Scambiate che è uscito il 29 gennaio e abbiamo già fatto diverse date, 4-5 date e quindi stiamo proseguendo in un marzo pieno di emozioni. Lettere Scambiate è appunto uscito il 29 gennaio per la Toulouse Track, che è la nostra meravigliosa etichetta folignate e Ammonia Records. Come è stato lavorare a questo disco che contiene soltanto 4 tracce tra l'altro? Sì, è stato molto emozionante perché in realtà la cosa che stiamo raccontando in giro è che noi abbiamo scritto più di 20 canzoni prima di andare poi a registrare queste 4. Abbiamo scritto il disco in una sessione che abbiamo fatto in un studio che si chiama Bridge Studio sul lago di Como da Maglia, gli amici Manetti, che è l'altro gruppo in cui Ale suona la batteria e tutto è successo più di un'estate fa, ormai un anno e mezzo fa. In queste 20 canzoni noi abbiamo capito che c'erano tanti minis diversi e volevamo invece racchiuderne una fotografia che fosse abbastanza omogenea. In più, mentre mettevamo insieme i pezzi ci siamo accorti che volevamo raccontare una storia. Allora è diventato naturale avere queste 4 canzoni che hanno uno sviluppo uniforme e che raccontano la storia di qualcuno che vuole andare via. Difatti comunque tra le 4 tracce sembra esserci un continuo, come se volessero formare un unico titolo comunque, no? Quattro tracce dalla vera molto, molto, molto malinconica. Quali sono le tematiche principali affrontate in questo disco? Rimango sempre con lui o... In realtà, lui... Mischiamo le carte? Allora, questi pezzi nascono da un'idea di Yuri, che in realtà l'idea di unire i quattro titoli è arrivata successivamente. Però erano lì ed era perfetto, quindi perché non farlo? È una fuga, il racconto di questa fuga poi l'abbiamo voluto anche mettere su carta. Nel libretto c'è un'illustrazione, anzi una storia, fumetti mi verrebbe da dire, che è una cosa molto bella e racconta una delle possibili letture che sono questi pezzi messi uno in fila all'altro che partono da una mattina quando ti svegli che proprio c'hai qualcosa che dici, no, ok, devo cambiare così non va bene. Anche se quello che hai fatto fino a quel momento era stato bellissimo e poi ci si scorda di se stessi, ci si libera di qualcosa e si parte appunto per andare via lontano. Per cui sicuramente c'è una malinconia perché nel momento in cui decidi di liberarti di qualcosa che ti pesa è quella roba, quella cosa che stai abbandonando rimane lì e tu te ne vai e non sai che cosa troverai, quindi è un guardare in avanti però senza dimenticarsi di quello che c'è dietro, no? Che mi sembra anche un buon modo di vedere il gruppo, se vogliamo i minis oggi cosa sono, hanno una storia importante dietro, però procediamo a 120 km orari verso la prossima data. I minis vantano appunto una carriera ventennale quasi, no? Qual è stato il valore aggiunto dei nuovi componenti rispetto ai minis di un tempo? Rispondo io perché... Allora, da un lato toglierei il quasi perché siamo a 20, quindi proprio 20. Poi il... Certo... Risponde lui! Ciao! I minis? Ma i minis rape, parlate dei minis rape? Il primo disco dei minis rape era un bellissimo disco al cor melodico, c'era una copertina un po' disegnata un po' così, però eh? Poi la seconda cosa 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 di due dei minis era lo split con gli... La seconda cosa cosa di due dei minis era lo split con gli happy noise, vero? Era molto bello, secondo me. E la mia canzone preferita dei minis è Fai vedere i pollici. Ciao ragazzi! Ciao, grazie, grandissimo! Meravigliosi intervento! No, a dire la verità, con Ali ci scherziamo sempre perché lui ormai sono quasi sette anni che suona con noi. Prego, passate pure, anzi, se volete intervenire. Ecco, l'organismo irresponsabile di tutto questo. Un applauso a Valeria Diallo! Quindi ormai sono già paracchiani che... Scusa, sto parlando. Sono tanti anni che Ali ormai sono con noi, per cui... E devo dire che anche la viola a questo punto sono un po' di anni. Però diciamo che quello che a me piace dire dei minis, Cioè, quello che credo, quando io e Luca ci troviamo con un bicchiere di vino a pensare a qual è stata la nostra storia, è che comunque non ci siamo mai, in qualche maniera, non ci siamo mai accontentati di quello che stavamo facendo e abbiamo cercato di proporre qualcosa di nuovo senza scordarci di quello che è stata la nostra storia. L'apporto di... L'apporto di... Questo è, vedi? È il nuovo. È il nuovo che avanza. L'apporto di Luca e di Viole è stato fondamentale, in senso che... Di Luca e Viole? Scusa, di Ale e di Viole è stato... È stato importante perché ha portato qualcosa di fresco, di fresco e ci ha aiutato a liberarci di alcuni, magari anche un po' di schemi o di etichette a cui eravamo molto legati. Quindi, e poi loro sono stati molto bravi, devo dire, a raccogliere quello che è stata la nostra storia e a proporci anche la loro visione di quello che era il nostro passato. Quindi, questo devo dire che è stato figo e non è facile. Non è facile perché, voglio dire, ne di batteristi per dire, fra un esempio ne abbiamo cambiati tanti. Quindi, Ale a questo punto è quello più duraturo, che è riuscito a cogliere questa cosa qua, a cogliere qual era il bello della nostra storia, anche quello che era un po', magari, ci aveva un po' rotto le palle, e provare a proporre qualcosa di nuovo senza snaturare quello che eravamo. Aggiungo una piccola cosa, un pensiero che ho sviluppato, certo, un pensiero che ho sviluppato recentemente, pensavo questa cosa di cambiare i membri nel corso degli anni. Intercambiare. No, no, stesso non l'ho mai cambiato, per fortuna, anche con tutto il rispetto di chi l'ha fatto. Però, volevo dire, nella band, questa, sono entrate due persone, il sottoscritto e i viole, che, ci tengo a precisarlo, hanno ascoltato i minis, e ascoltavano i minis già nella fase dell'adolescenza. E quindi, io questo l'ho sempre visto come un valore aggiunto, poi, nell'evoluzione successiva della band, perché non è paragonabile a band che cambiano membri pescando, con delle audizioni, con dei provini, oppure da conoscenze comuni, o a caso anche, ma è stato un percorso condiviso quasi fin dall'inizio, quasi fin dall'inizio, che ha permesso a me, personalmente, poi credo anche a viole, ma magari sentiremo anche il suo pensiero, di capire quello che è stata la storia di una band fino al momento del nostro ingresso, e poi portarla avanti, forse con più cognizione di causa, rispetto a una situazione che ci avrebbe visto diversamente, da totalmente esterni. Invece così non è stato, per fortuna. Hanno detto già tutto. Un'ultima cosa che vorrei chiedervi è, siete stati un po' considerati paradini dell'alcore melodico. Vi riconoscete in questa descrizione? Cioè, come lo definireste, quello che fate? Allora, noi sì, ci riconosciamo parte della scena alcore melodica, e ci riconosciamo soprattutto a parte di una scena che poi oggi non esiste più, ma che è stata molto importante in un momento, fai conto, dalla fine anni 90, a metà di 2000, in cui l'Italia non era più il posto dove c'erano le band hardcore che andavano in giro per il mondo a suonare, ed era molto divisa in generi, nel senso che c'erano le band straight edge, c'erano le band hardcore pesanti, c'erano le band punk rock e poi c'era l'arcore melodico. Noi abbiamo iniziato a cantare in italiano in un momento in cui praticamente nessuno cantava in italiano. Oggi la figata è che ci sono dei gruppi come Fast Animal Science, Blue Kids e altri che vengono dal nostro mondo, che hanno avuto successo anche là fuori e che cantano in italiano. Io credo che una puntina di questo successo ci appartiene, ma non che ci appartiene e quindi il mondo ci deve qualcosa. Vuol dire che ha avuto senso quello che facevamo allora. Benissimo, io vi ringrazio Minis, è quasi ora di andare a suonare. Un saluto da Radiofonica, ringrazio anche Astio Collettivo e naturalmente la Spoken Beer, birra ufficiale di Astio Collettivo. Ciao, grazie.